La tua foto può essere banale e uguale a tante altre, oppure può essere originale, creativa o dinamica e sorprendente come questa colta al volo. Enciclopedia della fotografia Curcio Kodak, 96 fascicoli settimanali, 8 volumi. C'è in edicola a 2000 lire il primo fascicolo con il regalo il secondo e la copertina del primo volume. Enciclopedia della fotografia Curcio Kodak, fotografi, si diventa.